Raga, mi raccomando, ci vediamo sabato, seguite la pagina Booty & Brain, scaricatevi l'app Zoom che serve per fare la call, io vado in palestra, ciao! Ha detto che viene pure Jafar Ma ti svegli? Scusa ma che esercizio è questo? Stretching? Mobilità articolare? Tan 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 Oh, sto parlando con te? Jafar? Oh! Mi sembri molto lardoso comunque, non sei in forma Jafar? Cioè in febbraio sta arrivando l'estate e tu sei grasso Basta, sai quanto costa per te, ma cerco solo un motivo Per sentirmi vivo e non è semplice Se balli le altre ti guardano male E c'hai sempre qualcosa da insegnare Mi metto in crisi in questo testo, non ci riesco a disegnare E' un cazzo E' un cazzo E' un cazzo E' un cazzo E' un cazzo